cosa cosa vi ho detto prima no cosa vede questa attenzione se state di lì cadete sotto lui perché c'è la gamba c'è al trampolo di due chilometri è stato in piedi se era al lele se era al cine che cosa se ero io ero già caduto di faccia di bestia cioè ci aveva su l'altra gamba che era su qua e quell'altra che era già giù in terra bravo vai fino alla pianza dritto bravo gira indietro tutto via no ho sbagliato il peso quando sei partito l'hai dato tanto ma ormai ricontro il sassa te l'ha portata fuori questa devi farla così per forza qua non qui qua se no ti farà largati allargati 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 prova qua lo devi fare non qua 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 se la prendi a destra poi ti tende a scivolare via la ruota ma c'è tanta aderenza che gli dai il colpetto giusto vieni di qua Sergio vieni di qua a prenderlo qua è non lo stai scherzando no 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 devi prenderlo qua perché se no si scivolava via la ruota finca stretta visto sei salito da fermo fermo quindi sei andato su andata sulla moto non lui cioè eri fermo bravo bravo quando avevi sul davanti fai un saltino una volta ancora bravo vieni di qua che arriva Frank adesso facciamo l'altra guarda lui non guarda no non guardarla ho sbagliato ma stavolta che cazzo c'ha guarda il chicco con il movimento oh appoggia e poi va tu l'hai fatto prima tu l'hai fatto così ma non gli hai dato il gas hai appoggiato ma non hai gasato non esagerare eh su troppo lento ancora troppo lento occhio alla catena eh ma lui aspetta cioè figaro eh ma davvero mi arriva con la coppa vedi come fa lui figaro cazzo no ma a parte di lì ma senti che paccata che gli dai tocca e poi scaricala di modo che ti passa fuori anche davanti ti passa già di là eh perché se no pesti di coppa eh guarda il chicco eh ma lui non va lui lo fa in un'altra maniera cazzo eh no ma è giusto così loro non riescono ma neanche io riesco a farla così cioè loro eh loro perché usano quello eh no non va bene come lo fai te loro non riescono ma neanche io riesco a fare il gasare come peso non usi il peso cioè tu alzi giusto il davanti ma poi vai lascia andare la moto come cazzo va lei cioè o o di modo che quando schiacci il dietro poi te la tira su cazzo invece tu alzi tanto il davanti poi la lascia andare cioè fai l'ostacolo per così invece uno e due movimento eh io non so come cazzo fanno a andare su anche il davanti l'hai volato via invece toccalo un pezzettino via non gli piace se guardi la forcella quando si alza lì non lavora più no no non lavora fino a dove è a terra e va dove vuole lei ascolta lui quando arriva lì davanti la forcella deve affondare sul sas uno e poi dopo però tu devi tirartela dietro perché io alla fine va su si va sulla moto guardalo poi la fate così capisci così la fate e se non sei veloce ti scappa fuori ovunque anche senza toccarla però devi dargli un casino per farla così se no non va e se sbagli resti con le gambe fuori la vocella è fatta per lavorare tu oh no no non serve a niente se è alto così non lo puoi fare quel movimento lì anche lui la fa un pelo diverso ma la fa tocca comunque il davanti